Ciao amigos, sono il dottor Fucci Volley. Sono un grande maestro brasileiro, maestro di vita, ma soprattutto maestro di Fucci Volley. E sono la vostra guida per il Pepsi Fucci Volley Tour 2009. Le regole sono semplici. Si fanno i punti con i piedi e con la testa. Tre tocchi per squadra, come mi hai visto una partita di Bisch Volley. Oggi vi spiego un altro colpo fondamentale, la rovesciata. Un colpo molto spettacolare che serve sia per attaccare che per recuperare l'ultimo momento. La famosa bicicletta, dove non si pedala, ma si vuole. Adesso lascio parlare i piedi dei miei fratelli del Lecce, Leo Tubarau e Elinio. Sono un pochino meno bravi di me, ma oggi i piedi che ridono e sul campo di Fucci Volley bisogna essere seri. E anche oggi abbiamo avuto la nostra dose di sabbia ed emozioni. Cari amici, buon Pepsi Fucci Volley Tour a tutti quanti. ...